Grazioso e da guanno lasciano il vasto Girardi per loro ieri pomeriggio saluti di rito e l'imbocca al lupo da parte della società. Vi auguriamo le migliori fortune, le parole del direttore generale Antonio Crudele che insieme ad altri dirigenti ha seguito i lavori nel quartier generale di Fornelli in occasione della prima seduta settimanale con vista sulla trasferta in casa del Fiuggi. Dunque due uscite, un centrocampista e un attaccante che per ragioni diverse non sono riusciti a fornire un contributo in linea con le aspettative del club. Partenze che ovviamente saranno rimpiazzate dagli uomini mercato del presidente Andrea Di Lucente ma senza fretta spiega il direttore generale annunciando di fatto l'inizio di una fase di riflessione che porterà i gialloblù a migliorare l'organico mantenendo invariato il budget indicato dalla società ad inizio campionato. Nel frattempo la squadra lavora per preparare la trasferta di Fiuggi con Farina che potrà recuperare Ruggeri e Chiere Matei. Penso che sia sotto gli occhi di tutti che il pareggio ci sta un po' stretto, anzi un bel po' stretto. Abbiamo dominato per 90 minuti, c'è stato questo episodio loro che li ha portati in vantaggio però poi siamo stati bravi a ricoverare con Varsi con il calcio di rigore e comunque a spingere fino alla fine.